Ed è iniziata un'altra settimana sui mercati finanziari, le criptovalute, bitcoin, cosa sta facendo? Siamo in una fase di chiusura del ciclo mensile di cui vi avevo parlato nell'ultima analisi che abbiamo fatto qui sul canale lunedì scorso. Oggi andiamo a vedere se effettivamente il mercato sta chiudendo questo ciclo mensile. Quali sono i rischi di questa fase? Quali sono anche le opportunità? Perché ci sono anche delle opportunità che dobbiamo vagliare in questo momento sul mercato delle criptovalute. Andiamo a guardare, come facciamo sempre, nel nostro appuntamento settimanale quotidiano con il video del lunedì, cioè quello relativo all'analisi grafica ciclica dei mercati finanziari e delle criptovalute, in particolare bitcoin. Ragazzi, poi vi devo anche dire che purtroppo l'algoritmo di YouTube ha di nuovo creato problemi all'amico Luca di CryptoGateway. E il canale è stato oscurato, speriamo comunque ritorni online a breve, ovviamente in una situazione del genere ci mancava anche l'algoritmo di YouTube. Vabbè, allora un grande abbraccio a Luca, in ogni caso anche da parte mia. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, Mauro Caimi qui con voi. Oggi faccio anche gli auguri a tutti quelli che sono, come me, chiusi ancora in quarantena per la Pasquetta. Giornata di Pasquetta, ragazzi, ho visto anche dei vicini fare arrosti sui balconi. È una cosa meravigliosa questa usanza che abbiamo noi, ma è incredibile, almeno da me ragazzi. C'è un sole che spacca le pietre. No comment. Abbandoniamo questo argomento e spostiamoci su quello delle analisi dei mercati, perché il mercato delle criptovalute ha continuato una fase laterale ribassista negli ultimi giorni ed era una fase attesa, se vi ricordate la mia analisi della scorsa settimana, perché all'incirca intorno alla metà del mese di aprile ci sarebbe stata questa croce del ciclo mensile. Ci sono anche una serie di peculiarità del momento, ragazzi, perché è un momento con pochi volumi, pochi scambi, in quanto i mercati finanziari, quelli old, quelli istituzionali, sono chiusi. È vero, sono aperti i futures, ragazzi, però i futures non bastano in questo momento a raccogliere tutti gli investitori istituzionali. Anche oggi è una giornata di pausa per i mercati in generale. Ma andiamo a vedere se questo ciclo mensile può considerarsi chiuso nella giornata di oggi o comunque nei minimi che sta facendo in questo momento sul mercato Bitcoin. Andare a vedere quali sono le possibilità, invece, per questa settimana, quello che potrebbe avvenire e dove potremmo essere da qui a qualche giorno per impostare le nostre strategie di trading. Come sempre, ragazzi, prima di andare a vedere questa informazione vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un mi piace per questi video perché, tra le altre cose, volevo anche dirvi che sta per uscire un mio video stracolmo di dati, ragazzi, e di analisi sulle relazioni fra Bitcoin e il mercato Sundar & Pulse 500. Pensavate che mi ero scordato di Bitcoin. Invece no, ragazzi, invece no. Sta uscendo, non so se domani o dopodomani, vedremo quando un super video, ragazzi, su cui lavoro da oltre dieci giorni con una montagna di dati. Quindi iscrivetevi, ragazzi, per non perdervi queste news. E nei commenti, come sempre, fatemi sapere se state facendo operazioni di trading in questo momento oppure vi siete goduti la Santa Pasqua anche se in quarantena. Bene, smetto di parlare, spostiamoci sui grafici. Eccoci sul grafico di Bitcoin, analizziamo, come facciamo sempre prima, quelli che sono i segnali di analisi tecnica che sono abbastanza semplici in questo caso, ragazzi. Non ci sono peculiarità, non ci sono cose particolarmente strane. Come vedete, dal giorno 8 più o meno, il mercato ha iniziato questo suo trend leggermente ribassista, laterale ribassista, che è palesemente una close di un ciclo, ragazzi. Lo vedete, l'ha ripetuto esattamente anche qui. La stessa tipologia anche di estensione in termini di percentuali, di ampiezza, diciamo così, e quindi, ragazzi, nulla, nulla di anomalo. Se non questo fatto qui, cioè il fatto che il mercato si sia scontrato con la sua media mobile a 50 periodi e poi, in sostanza, non è riuscita a superarla. Sapete come la penso in questo momento con le medie mobili? Quindi, secondo me, questo debt cross non indica nessuna inversione ribassista, così come questo long non aveva indicato nessuna inversione long, ve l'ho detto in tempi non sospetti, ragazzi, che questo sarebbe stato solo un classico cross over e under solo per lateralità. Quindi, sinceramente, il mercato si è riaccostato al suo prezzo medio. Ho detto anche in un video tanto tempo fa, dove ho parlato del valore di Bitcoin, andatevelo a vedere, ve lo lascio sulla mia testa, ragazzi. È uno splendido video per farvi capire come ragionare quando volete anche capire come si calcola il valore di un mercato, come quello cripto in questo caso. Quello che abbiamo l'indicazione dei grafici. Vi avevo anche detto che più o meno intorno ai 6.700, 7.000, era il prezzo medio degli ultimi anni di Bitcoin. È ritornato dove era prima, ragazzi, dopo il mega dump di marzo. Quindi analisi tecnica, resistenza di breve, 7.000 rimane, rimane ancora valida, il mercato l'ha rotta, ma è ritornato indietro, ragazzi. Perché? Perché in realtà questa non è veramente una resistenza importantissima. Quella importantissima sta qui, ragazzi, è lontana, lontana anni luce. Queste sono resistenze di breve che poi innescano, vedete, questo tipo di meccanismo. Ma in pratica, ragazzi, c'è poco trading anche da fare, se non quello intraday. Per il trading intraday utilizzate la strategia che ho spiegato nella live la scorsa settimana. Quella, insomma, qualcuno di voi se la ricorda? Ancora una volta ve la lascio sulla testa. Oggi facciamo, lasciati da questo punto di vista. Perciò, ragazzi, non c'erano grandi notizie da un punto di vista di analisi tecnica. C'è questa, diciamo, trendline, come vedete, ancora una volta, una banalissima trendline, sembra dire così. Insomma, ragazzi, penso che sarà rotta anche a breve, lo vedremo tra un po'. Siamo al cuore del video adesso, e quindi nel cuore del video, ragazzi, dobbiamo spostarci sull'analisi ciclica. Pronti? Andiamo. Allora, analisi ciclica dei mercati. Chiusura del ciclo mensile. Sì, ragazzi, ok, stiamo facendo una close del ciclo mensile. In questo momento la vedete qui. È una close abbastanza attesa. Avevamo dato un orizzonte di 32 giorni. Domani sarebbero 32 giorni. Ragazzi, sapete che è irrilevante un giorno prima, un giorno dopo, in questi tipi di analisi. Bensì, era rilevante il fatto che da qui in poi il mercato dovesse andare a fare questa close ciclica. Sono un po' indeciso, vista la scarsa entità di ampiezza di questo movimento, se questa close ciclica rappresenta effettivamente una close di un ciclo mensile. Mi sembra un po' poco, ragazzi. Però, vi dico francamente, potrebbe tranquillamente essere così. Quindi, utilizzo la versione standard, quella più probabile, e per me questa sarà la close del ciclo mensile di Bitcoin. Dalla ripartenza che vedremo nei prossimi giorni, se ci sarà, mi renderò anche conto se questo tipo di chiusura effettivamente è un close mensile oppure un'altra forma ternaria che ho in testa da un po', che però al momento, ragazzi, non vi svelo. Per non confondere le vostre idee, abbiamo parlato tanto in Academy con gli iscritti, ma non serve indicarla qui sul canale, ragazzi, perché vi confonderebbe le idee, non avrebbe neanche senso dal punto di vista pratico. Quindi andiamo semplicemente a valutare la situazione ciclica più corretta, quella che in questo momento rappresenta quella più probabile, cioè la close del mensile. Se il mercato chiuderà questo ciclo mensile, in sostanza in questa fascia temporale, da oggi già va benissimo, ragazzi, non c'è nessuna necessità neanche di continuare, da qui in poi dovremmo avere il tentativo, appunto, di ripresa del ciclo, con un nuovo mensile che potrebbe portare alla rottura di questa trendline, per questo vi avevo detto che la trendline, in questione la indico da qui, dovrebbe durare poco, ragazzi, perché se effettivamente il mercato ha chiuso un ciclo mensile, allora non c'è trendline che regga, ragazzi, vedete? Qui come anche la trendline che univa questi minimi è stata rotta, quindi c'è stato il break, in questo caso, in close del mensile. Questo è comune, ragazzi, perché la ciclica vi fa capire anche l'utilizzo delle trendline, è tutto un meccanismo collegato. Perciò dovremmo vedere il mercato intanto andare a superare la resistenza di 7.000 dollari, fare il break di questa trendline e della media 50 periodi, a quel punto innescherebbe l'inizio di un nuovo ciclo mensile. Dove andrà questo ciclo mensile? Allora, ragazzi, se un ciclo mensile partirà questa settimana, intanto andiamo a cercare di capire la sua estensione, quale potrebbe essere, dovrebbe andare a portarci intorno a maggio. Prima parte del ciclo mensile, intorno alla fine di aprile, 25-26 di aprile, insomma questa fascia qui, ragazzi, dovrebbe reggere il mercato. Al di là di qualsiasi formazione che vorrà assumere bitcoin, dovrebbe tentare di fare uno spunto rialzista. Poi il problema è se riuscirà a superare i famosi 7.500, cioè questo massimo. Io credo di sì, però potrebbe essere in effetti innescato un doppio massimo. Questo lo avremo anche se Standard & Poor's 500 e i mercati hold inizieranno a soffrire. Abbiamo visto i mercati hold fare un grande rally, ragazzi, e ovviamente i mercati criptovaluti si sono ritenuti un po' protetti dal rally dei mercati hold, quindi con meno panico, ma questo non so se durerà anche nelle prossime settimane. Dovremmo vederla questa cosa, per cui questo ciclo mensile, ragazzi, che sta per iniziare su bitcoin, va tenuto sotto controllo. Dobbiamo attaccargli gli elettrodi, ragazzi, ok? Fargli il polso, proprio se l'Apple Watch ci può fare, e vedere se hanno delle fibrillazioni. Tenete fortemente d'occhio. Il minimo in questione in questo momento è 6.600 e il massimo a 7.500. Saranno dei livelli chiave, ma lo vedremo nei prossimi video. Andiamo alle riflessioni finali per quanto riguarda questo video. I mercati e le criptovalute, ragazzi, sono alla ricerca di una direzione, alla ricerca di un'anima sperduta, potrei dire, e voglio fare un video su questo argomento, perché qualcosa è cambiato, ragazzi, da marzo, ed è innegabile. Abbiamo visto un po' di delusione sui mercati, ma abbiamo visto anche l'Halving, per esempio, di Bitcoin Cash e di BSV, essere un Halving passato quasi in sordina, quasi senza clamore, ragazzi. Perché? Perché l'Halving, in sostanza, è un meccanismo assolutamente scontato delle criptovalute. Sappiamo che Bitcoin lo farà a momenti. E' anche vero, ragazzi, che il post-Halving per Bitcoin Cash e BSV non è stato positivo. Però questo non è, secondo me, da legare a quello che vedremo in Bitcoin. Quindi ci sarà un mese, questo mese di aprile e poi maggio, che sarà molto importante per Bitcoin, per capire anche se l'Halving di Bitcoin stesso potrà produrre un risultato positivo. Purtroppo l'analisi ciclica, come già vi ho indicato nel mio video che parlavo dell'anno 2020, non è positiva e al momento il mercato non inficia quel tipo di view di lungo periodo, per cui dovremmo stare veramente molto attenti, soprattutto alle posizioni hold, ragazzi, e soprattutto nel momento in cui ci sarà l'Halving di Bitcoin. Dopo l'Halving, magari, potremmo avere una fase positiva, ci potrebbe anche stare, ragazzi, però purtroppo in questo momento previsioni di lungo periodo sul mercato sono negative. Perciò dobbiamo andare a cercare di capire se il mercato Bitcoin si farà forza, magari su un determinato livello di supporto, su quest'Halving che verrà, se cambierà la sua direzione nel corso dell'anno 2020. Perché le uniche conclusioni che possiamo trarre al momento sono di anno di riposo, lo chiamerei così, un po' un dolce dormire. Siamo ad aprile, ragazzi, però in sostanza Bitcoin probabilmente prenderà un break fino alla fine dell'anno. Vedremo, ragazzi, ci sono in ballo forse notevoli e tutto può succedere, questo è anche vero, ragazzi. Al momento la view di lungo, come vi ho spiegato, resta negativa. C'è sempre l'ipotesi di un ciclo anomalo che abbia chiuso l'annuale ora a marzo, e quindi questo sarebbe un nuovo annuale, ma fino a quando non avremmo una bella forza rialzista non si schioda dall'ipotesi ancora di annuale ribassista in chiusura a dicembre 2020. Quindi, ragazzi, c'è tempo ancora per fare le nostre analisi. Se posso consigliarvi, tanto non è un consiglio finanziario, questo è un consiglio di cultura finanziaria, chiamiamolo così, se posso consigliarvi, seguiamo più il mercato da vicino nei cicli mensili. Lì, ragazzi, si potrebbe fare trading, per chi di voi magari ha studiato ed è formato su questa materia, io ho tanti iscritti ai miei corsi che stanno facendo favilla in questo momento sui mercati, perché è un momento in cui il trading potrà dare molto, molto più profitto, molta più soddisfazione, secondo me. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine, e noi ci rivediamo nei prossimi giorni col prossimo video, ne faccio tantissimi in questo periodo di quarantena. Ciao a tutti e alla prossima!